Giovanni Sanguinetti è finita una stagione lunghissima che è iniziata con la preparazione un anno fa, è stata una stagione che è durata dieci mesi, per te è una stagione in prima squadra che stagione è stata per la squadra e che stagione è stata per te? Ma è stata una stagione complicata, sia per l'assenza del pubblico, sia per l'andamento della squadra che è stata un po' alta allenante, però da parte mia è stata una grande opportunità, mi sono potuto allenare con giocatori di grandissimo livello e imparare da loro e dallo staff tutti i giorni, quindi per me è stata comunque una stagione positiva sotto ogni aspetto. Che cosa cambia Giovanni tra l'allenarsi con una squadra giovanile, un Hunter 19, ed una prima squadra e che cosa cambia anche nel vivere la gara insieme ai protagonisti? Beh chiaramente nel professionismo hai appunto a che fare con dei lavoratori, delle persone che comunque considerano l'attività a un livello molto più alto e si impegnano ogni giorno per raggiungere i propri obiettivi e comunque c'è anche una componente di aspettativa e diciamo che la partita è anche più sentita soprattutto perché magari si aspetta un risultato da giocatori di un certo calibro e quindi è tutto più considerato di più diciamo. Avevi davanti a te Elia Bossi, Dragan Stankovic, Daniele Mazzone, ci sono delle cose, dei segreti in particolare o qualcosa in particolare che quest'anno sei riuscito a carpire da loro? Ti hanno aiutato nella tua crescita? Ma sicuramente sono sempre stati tutti e tre disponibili a darmi qualche consiglio quando c'era bisogno. Di sicuro penso che di quest'anno di essere migliorato molto in attacco o comunque in generale anche sull'atteggiamento, su come stare in campo e su come anche il rapporto con gli errori e queste cose qua sono delle cose su cui devo ancora lavorare molto ma che di sicuro grazie a loro sono riuscito a fare un passo avanti durante questa stagione. Quante state importate infine nella parte finale della stagione, quelli playoff challenge per il quinto posto che poi avete vinto, è stato un bel risultato, quanto è stato importante essere protagonista anche in campo? Ma secondo me è stato molto importante per la squadra innanzitutto portare a casa il risultato perché abbiamo dimostrato che nonostante non ci fossero i titolari in campo nessuno fosse in vacanza o prendesse alla leggera la cosa e in più per noi giovani ovviamente è stata una grande opportunità e potersi misurare anche in partita è una cosa incredibile e mi sono anche accorto che è molto diverso dall'allenamento e che comunque ci vuole una preparazione anche per quello e questo ci ha aiutato in prepararci per un eventuale futuro in campo. A proposito di futuro in campo, tu sei a Modena, sei cresciuto tanto, prossimo anno? Ma per ora non lo so, diciamo che mi piacerebbe restare a Modena e crescere ancora e se ci fosse opportunità di giocare si vedrà.